Con il passaggio di consegne tra i figuranti del corteo storico della Bolla dell'anno scorso con quelli di questa edizione della perdonanza numero 729 entra nel vivo la settimana celestiniana. La dama della Bolla di quest'anno è l'attrice Viola Graziosi, la dama della croce è l'arpista aquilana Valentina Gulizia, gentil signore, pianista aquilano Carlo Palermo, una scelta quella dei personaggi più importanti del corteo storico incentrata sulla ricandidatura della città, capitale della cultura, 2026. L'anno scorso invece si era voluta incentrare la scelta sull'Aquila a città accogliente con Kavzar Abufazil, ragazza afghana, Adriana Pinate, dama della croce e Shigong Fu, giovin signore, ricercatrice del GSSI Adriana e fisico dei laboratori del Gansasso e il secondo che è tornato in Cina dopo la sua esperienza qui. Il sindaco per i giubiondi in apertura di cerimonia ha ricordato Giovanna Di Matteo che ha dedicato la sua vita alla perdonanza al lavoro storico e alla ricerca su abiti e corteo. E i recustodi sono al nostro modo di vedere una rappresentazione pratica della capacità dell'Aquila di farsi centro di produzione culturale, Viola Graziosi che ha interpretato Clitennestra, proprio uno spettacolo voluto dal terro stabile dell'Abruzzo e Carlo e Valentina invece che sono due giovani aquilane, due giovani promesse, due artisti che si sono messi in gioco e che lanciano un messaggio di grande speranza. I giovani possono trovare delle opportunità anche in questa città e liberano il campo da due luoghi comuni. Il primo che i giovani non siano in grado di mandare messaggi profondi, il secondo che i giovani non trovino possibilità in questa città di crescita. Durante la conferenza si sono passati simbolicamente tutti quei simboli così importanti del corteo che sfideranno il prossimo 28 agosto in occasione della manifestazione celestiniana che poi avrà il suo momento più alto con l'apertura della Porta Santa. È meraviglioso, io appunto sono venuta all'Aquila per la prima volta con Clitemnestra ed è stato un ruolo importantissimo per la mia vita. Questo è un ruolo ancora più grande perché riguarda veramente una... sento il peso di tutte le donne e anche la meraviglia di tutte le donne perché è un ruolo che riguarda la cittadinanza, le persone, che è così vicino alle persone ed è veramente un grande onore. Oltretutto ho riscoperto delle mie radici aquilane, mia nonna e la mia bisnonna che hanno una cappella al cimitero monumentale per cui tutto torna, c'è un grande gioco della vita e questo evento così spirituale, così profondo che ci dà tanta speranza, spero che possa irradiare e raggiungere i cuori delle donne e degli uomini non solo aquilani ma italiani e anche che arrivi da tutte le parti del mondo. Grazie. Grazie. Grazie.